Grazie a tutti, porto solo un saluto da parte dell'associazione che è presente, Ciclo Tondelli, un ciclo che opera da 15 anni nella Pedemontana Verde, è una terra che la discriminazione riguardo le persone omosessuali lo conosce bene e che negli ultimi tempi sta conoscendo questo fenomeno della teoria del gender, della lotta di ideologia del gender, che si sta diffondendo molto rapidamente anche sul nostro territorio. Credo che sia importante, anche raccogliendo un po' gli inviti che sono venuti da altre associazioni che hanno parlato prima di me, di fare rete per combattere assieme e per discutere assieme una strategia, perché sicuramente è un tema che merita una riflessione, che non ci deve portare solamente a una chiusura, ma anche a un approfondimento tematico di come sia nata e di quali sono anche le sensibilità che va a toccare sul territorio. In questo senso noi come Ciclo siamo impegnati ad andare nel territorio e dialogare con tutti gli interlocutori che riusciamo a raccogliere, perché effettivamente non vogliamo solamente contrapporci, ma vogliamo capire anche delle ragioni del mondo cattolico e anche di una parte della popolazione della mia zona che è molto sensibile a questa tematica. Per il resto, riadacciandomi un po' alla relazione del segretario, credo di essere molto d'accordo con molte delle spanze dell'amico Iuri, il segretario Uffiente, credo che effettivamente l'orizzonte nostro rimane quello del matrimonio egalitario, ma come diceva Iuri bisogna fare una riflessione sul disegno di legge che abbiamo in discussione. Credo che come associazioni dobbiamo risciutere, ci dobbiamo discutere, credo che questo lo dobbiamo fare e mi auguro che anche il congresso sia un'occasione per interloquire e fare un approfondimento tra di noi. Buon congresso a tutti e mi fa piacere rimanere qui con voi oggi. Bene, grazie. Grazie.